Città metropolitana di Milano ha dato il via alla Masterclass sulle politiche giovanili. Tre incontri, organizzati in collaborazione con l'Osservatorio Metropolitano Giovani, amministratori locali, tecnici comunali e operatori delle politiche giovanili del territorio metropolitano, per costruire insieme delle prospettive innovative di lavoro per i giovani. L'iniziativa, che continuerà anche a settembre-ottobre, costituisce un laboratorio di innovazione con lo scopo di condividere esperienze e sviluppare obiettivi strategici attraverso la costruzione di un network metropolitano per il protagonismo dei giovani. L'idea su cui vorremmo confrontarci con i partecipanti è su come strutturare un network metropolitano delle politiche giovanili. L'esigenza è quella di individuare una nuova rete, quindi una nuova governance delle politiche giovanili a livello metropolitano in tutta la città metropolitana, per consentire da un lato politiche giovanili utili alle esigenze dei giovani e allo stesso tempo partecipate. L'obiettivo è quello di coprogettare le politiche con i giovani e quindi mettere al centro i giovani dei percorsi che offriamo loro. Giovani quindi non attori, ma veri protagonisti delle politiche, in un'ottica quindi di progettazione partecipata. Oggi è il primo incontro e ci focalizzeremo proprio su questo cambio di visione e di prospettiva. Lavoreremo attivamente con i partecipanti all'interno di un'ottica laboratoriale e faremo altri due incontri a settembre e ottobre finalizzati ad arrivare insieme a definire come si possa costruire un network metropolitano delle politiche giovanili.